Ritornano su Rete Capri le vicende e gli intrighi della famiglia Alati, il simbolo di una tradizione basata sul lavoro e sull'onestà, contrapposto all'aggressiva arroganza della speculazione edilizia su cui grava l'ombra opprimente della malavita organizzata. Non basta una vita, lo sceneggiato interamente realizzato negli studi di Rete Capri che ha appassionato milioni di spettatori in tutta Italia. Non basta una vita, una storia vincente e emozionante che ha anticipato lo scandalo di Tangentopodi. Non basta una vita, tutti i giorni alle 20 e 15 su Rete Capri.